Prima di lasciarvi a questo episodio finale della seconda stagione, quindi tranquilli, ci sarà la terza stagione, siamo carichissimi, mi avete motivato proprio voi nelle ultime settimane, quindi vi ringrazio di cuore Volevo chiedervi appunto di rispondermi qui sopra nelle schede, farmi sapere se preferite come riassunto della seconda stagione una top 10 dei gol, quindi i migliori gol, oppure un montaggio stile film, come mi piace fare di solito Fatemelo sapere, detto ciò vi lascio al video, da ieri Roma Ed eccoci qui ragazzuoli con Mertens che come avete visto al volissimo in basso ha raggiunto i 20 gol di stagione e con l'Inter nell'ultima giornata di campionato potrebbe anche farne qualcuno in più Vincendo da solo la classifica marcatoria e quindi la scarpa d'oro per quanto riguarda la serie A 2018-2019 Che cosa dire però? Io raramente simulo le partite, però questa qui è veramente inutile, nel senso che possiamo, anche perdendo siamo già in campione d'Italia Non abbiamo più nulla da dire ed è bello aver chiuso il campionato giocato proprio con quelle derby che avete visto negli scorsi giorni ed è stato davvero emozionante Quindi l'Inter e poi a inizio giugno, il 5 giugno, Roma-Inter, finale di Coppa Italia A questo punto direi di concentrarci soltanto su quella e andare a simulare l'ultima di campionato Ok, è cominciata la sfida San Siro, vedete le formazioni, arrivano anche gli altri campi Mertens e poi Rosso Affazio che chiude benissimo il suo campionato, però sono contentissimo per il gol di Mertens che fa 21 in campionato Quindi Daie così, per una stagione clamorosa di Driss Sto vedendo anche dagli altri campi se segna Belotti perché in questo momento due a doppietta di Mertens, 22, penso sia solissimo Perché non mi arriva il gol di Belotti, quindi 2-0, finisse così Tanta roba anche se segna, sul rigore, João Mario, ma ci frega il giusto perché la Roma vince Spugna San Siro nell'ultima giornata di campionato Partita simulata, penso l'unica delle carriere che vi ho portato su YouTube Ma è giusto così Adesso, giusto per curiosità, io vorrei andare a vedere i marcatori Tra l'altro Perotti potrebbe vincere segnando magari due gol in finale A discapito proprio di Candreva che giocherà la finale contro di lui Anche la classifica marcatori della Coppa Italia Mentre Mertens di un gol, ha battuto Suso di due gol Belotti E quindi capo cannoniere alla faccia di chi l'ha criticato l'estate scorsa E ho letto anche moltissimi vostri commenti sotto lo scorso episodio di incitamento Proprio per quelle persone che non avevano creduto nell'operazione che avevamo fatto Spugna San Siro Palletti che torna a Roma Marconi che vuole fare stare la Coppa Team Cup nella capitale Inter-Roma L'ultimo atto di una stagione ben giocata da entrambe le squadre Emozionantissima per quanto riguarda la Roma che ha vinto il campionato Molto emozionante anche per quanto riguarda l'Inter Che ha vinto l'Europa League E quindi ha fatto molto bene a livello europeo Dove la Roma è un po' steccato ma vorrà ripartire dall'anno prossimo Insomma, tanto pepe su questa finale Ecco Mr. Marconi Tante novità di formazione nella Roma C'è Ziller tra i pali Guarderemo subito le formazioni Intanto Dries Mertens Cinque gol nelle ultime tre partite Capo cannoliere della Serie A Sicuramente ha fatto benissimo in questa prima stagione giallorossa Vorrà riconfermarsi sicuramente anche il prossimo anno Passerei per quanto riguarda la grafica e le formazioni Ed eccolo qui l'undici di Federico Marconi Con Ziller Portiere delle Coppe Tra i pali Florenzi Real Madrid su di lui Poi Manolas Sbaglieco perché fa studio squalificato E corsa qua a completare la difesa Poi Nainggolan e Pellegrini Non c'è De Rossi che parte dalla panchina Lui ha alzato la Coppa della Serie A Vorrà sicuramente alzare anche quella della Coppa Italia Ma potrebbe entrare chiaramente a partita in corso Poi il resto della formazione è titolare L'avete vista E allora direi che Si può partire Inquadrato Mauro Icardi Sicuramente uno degli uomini chiave di quest'Inter Squadre che si sono affrontate qualche giorno fa In campionato a Milano Partita inutile ai fini della classifica Almeno per quanto riguarda la Roma Stasera si gioca già con il nuovo pallone Della prossima Serie A È tutto pronto L'attesa è finita È cominciata la finale Con il primo possesso nero azzurro Da sorteggio Questo è un Inter-Roma Ma chiaramente si gioca all'Olimpico Quindi la Roma Il pubblico dà la sua Ha voluto fortemente Giocare questa finale Dal primo minuto con Legrini Accontentato dal mister Che evidentemente ha visto un'ottima stagione Da parte del numero 7 Corre Kurzawa Che può accentrarsi Lo fa Poi infila il pallone per Mertens Se la porta sul destro Andanovic Primo squillo della Roma Per giudicarsi la classifica marcatori della Coppa Italia Intanto ha cercato Mertens A sinistra proprio Perotti Mertens è scaricato di lui Occhio al destro a giro Le spinto La palla poi diventa buona ancora per Mertens Di nuovo Andanovic Di nuovo duello tra i due Adesso lancio verso Icardi Che riesce a metterla giù Poi a girarla Meravigliosamente Per la discesa di Ojasarbal Poi di nuovo Icardi Dentro l'area Icardi fino in fondo Al centro Borca Valero Lui va in porta E Ziller risponde presente Primo squillo dell'Inter Roma-Inter in campionato Quello olimpico Finita 2-2 Tanto occhio all'Inter Ancora con Icardi Che colpisce sul fondo Ancora palla sul destro Per il 9 dell'Inter Che può far male Nuovo attacco della Roma Alimenta Kurzawa a sinistra Centrale da Schick Il tacco a liberare Pellegrini Il tocco dentro per Mertens Al limite Mertens chiuso Difensivamente l'Inter Sta facendo comunque molto bene Ma la Roma ha un pressing Mettamente più alto Che non fa ripartire Nerazzurri Ancora Pellegrini Cerca Schick Occhio al movimento Da parte di Verotti Valla buona per il Monito Che la rimette dentro Grande idea Schick Roma 1 Inter 0 Grandissima azione della Roma Sull'asse Schick Perotti E poi il tuffo d'Angelo Del 14 Che porta avanti I giallorossi In questa finale Di Coppa Italia Cioè la Roma Insomma Non l'abbiamo detto In apertura Ma Non manca per niente Perché è la detentrice Di questo trofeo Ha vinto A supplementare l'anno scorso Contro la Juventus Per 2-1 Era andata sotto Col gol di Miralem Pjanic Poi la doppietta Dievingeco E il suo erede Fa 1-0 Borca Valero Da Ojasarbal Vuole allungare su Pellegrini Che non gli dà Tregua Poi il tocco falloso Di Manolà Scalcio di punizione Per l'Inter In chiusura di primo tempo Attenzione Perché da quella posizione Gabigol Può essere pericoloso Con uno spiopente Infatti cerca L'assist La sponda Palla buona per Joe Mario Al limite Joe Mario Destro E c'è il pareggio E c'è il pareggio dell'Inter C'è il pareggio dell'Inter Al 45esimo Con un grande gol Su palla inattiva Potevamo gestirla meglio Quanto meno evitare Di fare fallo A questo punto Del match In quella zona Poi rivediamo Grande gol Del 10 Nero azzurro Il 10 portoghese Che segna ancora la Roma Dopo il gol di qualche giorno fa In campionato Nessun cambio per il momento Né nella Roma Né nell'Inter E allora Al 36esimo Scic Al 46esimo Praticamente Joe Mario 1-1 E si ricomincia Golan Prepotentemente a centrocampo Dentro da Scic Sponda ancora da Nainggolan Dentro ancora per Scic Altra grande azione Sinistro Andanovic Si rifugia il calcio d'angolo Florenzi Roma Che attacca quasi a pieno organico Con Nainggolan dentro Da Mertens Al zona tiro Mertens a giro Andanovic Dentro Brozovic Al posto di Condobbia Nell'Inter Quando manca mezz'ora Esatta al novantesimo La Roma invece Fa due cambi Entreranno con il numero 9 Michi Baschuaí Al posto di Patrick Scic Fuori anche il numero 7 Lorenzo Pellegrini E dentro col 16 Alla sua ultima apparizione Ufficiale In maglia giallorossa Daniele De Rossi Palla per Borca Valero Occhio che la Roma Si fa cogliere in preparata Nella di rigore Ojasarbal Mette a terra da Florenzi Sempre il 14 E poi Ziller Nainggolan Ballone verso Perotti Vuole dialogare con Baschuaí Il dialogo riesce Occhio a Perotti Dentro l'area Perotti alzà il cross Secondo palo Riyad Mares 2-1 A un quarto d'ora dalla fine Un gol che peraltro assomiglia A uno dei due di Dzeko Dell'anno scorso Sotto la sud Il vantaggio della Roma Rivediamo il tutto Con la palla Bellissima di Baschuaí Per Perotti Altrettanto bello il cross Andanovic questa volta Non irresistibile Tantomeno Santon Che prova a dare un calcio Sulla nuca di Mares Senza un motivo logico Inter 1 E Roma 2 E Marconi non si contiene Adesso dobbiamo assolutamente tenere Nainggolan che spinge il controviete adesso Occhio che può partire dalla Roma C'è Mertes che si fa vedere Nainggolan lo vuole mandare Ma chiude molto bene Wallquist E poi Perotti fa un qualcosa di equino Colpisce il pallone con una mano Calcio di punizione per l'Inter Ed evitiamo adesso però di Andarci a complicare la partita Intanto dentro un altro attaccante Lungo Prodotto del vivaio Giovanile dell'Inter 10 minuti Cross di Capigol Bayego questa volta c'è Ma c'è anche età Insiste l'Inter con Gabigol Giovanario Gabigol Va a puntare Mares Poi arriva un altro cross E' appena entrato Che segna il gol del 2 a 2 Il numero 19 Lungo Come Una decina d'anni fa I Roma-Inter Sembravano infiniti Le squadre si incontravano sempre In campionato Per la lotta a Scudetto Per la Coppa Italia E adesso sembra Che si sia fermato il tempo Sembra essere tornati a 10 anni fa E 2 a 2 Si va verso i supplementari Senza problemi E poi subito con le mani 4 di recupero Giovanario Lungo Disturbato da Keita Tocca per Brozovic Adesso la Roma deve attendere Perché l'Inter può far malissimo Nel finale Anche troppo male Florenzi Allontaniamola Adesso Bashoi Che riesce a colpire Mertens riesce a metterla giù Occhio a Mertens che va via Giovanni lo rincorre Sono tutti fermi Mertens Mertens Non ci credo Pariva Nengolana Rimorchi Attenzione Nengolana Ancora dentro Bashoi Ancora 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 Bashoi L'uomo Più decisivo Di questa stagione 3 a 2 Al 94esimo Si se l'era mangiato Mertens Se l'era mangiato Mertens Bashoi La mette dentro 3 a 2 Roma 3 a 2 Roma All'ultimo respiro Guardate ragazzi Mi dobbiamo rimettere la maglietta Perché Mamma mia Mamma mia Non so più veramente come Non lo so Mi sembra ovvio Che io non sappia più Come risultare Quando segna Bashoi Una storia d'amore Lunga anni Quella con Bashoi Cioè anni Mesi Perché da inizio stagione Da quel gol all'Ajax Nei gironi di Champions Un giocatore straordinario Finisce qui Ancora una volta Esulta l'Olimpico La Sud Florenzi che esulta Come ho esultato io 3 secondi fa La Roma è campione Doppietta per la Roma In stagione Prima il campionato Poi la Coppa Italia Nulla Non c'è il triplete Perché chiaramente Non abbiamo vinto la Champions League Ma abbiamo un'altra stagione Per riprovarci Stasera Esultiamo ancora noi Esultano ancora i giallorossi Con dei rossi capitano Alzerà pure questa E allora questa volta bro Vieni qui Vieni qui Vieni qui bro Perché questa La dobbiamo alzare insieme Tu hai un fisico Sicuramente non toglie il mio Infatti quando mi toglie Il prossimo anno C'è una cosa Io mi tolgo la maglietta E tu esulti Facciamo il montaggio Facciamo il montaggio Però facciamola alzare al capitano Attenzione Facciamola alzare al capitano Che adesso Dopo aver alzato la serie A Alza questo Hai ripreso Sì ho fatto tutto Mamma mia Che poi però le clip Non sono andate Perché il tuo telefono è stronzo E allora Daniele È pronto ad alzarla Alza la scena Capitano ancora La seconda Dove viene in stagione per la Roma E te lo si chiude in bellezza Abbiamo già Detto di tutto su Daniele Dopo il termo scudetto Dove il campionato Adesso devo dire dopo questa Che cosa devo dire Andiamo al mare Sta applausi La scena aperta Per De Rossi Un'altra stagione Che adesso Ufficialmente Finisce Adesso siamo carichissimi Per la terza Rispondete al sondaggio Che più che questa Inizio video Con De Rossi E con Giallo Rossi Che corrono per tutto il campo Con lui che fa il coglione Lasciate like Iscrivetevi nei prossimi giorni Montaggino Per quanto riguarda La seconda stagione E poi si parte carichissimi Per l'ultima È voglio Nei per chi va Ci dica Ma avete vinto Un bicchiere di prosecco Davvero che schifo Da coppare la tutta Mi spezzi Un bicchiere di prosecco Ma come te vengono Ma come te vengono